a portare le aziende a fare delle transizioni e tra quando si sta tanto tempo fuori casa tutte e due, passavamo magari l'intera settimana insieme, la sera si andava a mangiare, a bere birra così e abbiamo cominciato a ipotizzare cose che si potevano fare, cose di cui sentivamo un po' che c'era un spazio e interesse e così è nata quest'idea del Product Ownership Camp. In realtà, se vado a vedere i miei appunti all'inizio, si chiamava in realtà non Product Ownership Camp ma Product Owner e Scrum Master Camp, l'abbiamo pensato tipo un gioco di ruolo, una specie di guerra o di sfida tra Product Owner e Scrum Master, dividendoli addirittura per un po' del Camp in due settori. Quindi parliamo un po' della pre-storia. Quindi l'idea nasce diciamo grosso modo intorno alla fine del 2011, i due visionari, insomma quelli che hanno avuto l'idea siamo io e Stefano e il modo con cui l'abbiamo messo in campo è stato, avevamo appresso quantità inumane di Lego e quindi ci siamo divertiti a creare una Lego Vision. Presto abbiamo aggregato altre persone, appena abbiamo cominciato a parlarne con altri, abbiamo trovato un sacco di persone interessate, quindi c'è Alessio Del Toro, la Daniela Cecchinelli e un Product Manager molto interessante, una persona squisita che è Donato Mangialardo, un po' esterno al mondo agile, però uno scatenato col cervello che gli va a 3000, ha deciso anche lui di unirsi e quindi abbiamo cominciato tramite call, meeting e altro a pensare a che cosa poteva essere questo PO Camp. Chiaramente l'abbiamo fatto mediante i soliti artefatti, quindi abbiamo pensato creiamo una vision, eravamo tutte persone che da poco avevano, era uscita da poco l'in startup come metodologia, c'eravamo abbastanza invaghiti di questi tool e quindi abbiamo detto, vai, usiamola subito. Io sono già un early adopter, un po' di qualsiasi cosa capita, quindi abbiamo pensato da subito anche a buttare giù un logo, a creare delle tabelle trello in cui inserire. Questa qui è il link canvas proprio dell'inizio, il primo. Ve lo vado un po' a illustrare tramite, penso che tutti conoscete un link canvas, quindi ha le sue nove aree, quindi da una parte abbiamo pensato a chi rivolgersi, quindi quali potevano essere i customer segment, quali potevano essere gli early adopter, dall'altro quali problemi avevano e l'abbiamo fatto proprio intervistandoli, non pensando a noi, quindi chiedendo ai vari P.O. che conoscevamo, ma te hai dei problemi, no? E quindi vedere. A quel punto è cominciata a venire fuori quella che poteva essere una soluzione, quelle che potevano essere le metriche per misurare il successo e l'insuccesso della nostra idea e quindi alla fin fine una unique value proposition e dall'altra parte chiaramente dovevamo rendere questa cosa che comunque ci avrebbe assorbito un po' di tempo come qualcosa di funzionante, quindi dovevano girare dei soldi e quindi far sì che fosse sostenibile. Andiamo un po' a vedere quindi in dettaglio che cosa abbiamo. Il problema essenziale è che quando siamo partiti nel 2011 il ruolo del P.O. era assolutamente non chiaro e non era molto chiara neanche come collegare e quindi collegare in modo continuo l'allineamento tra il business e i team di sviluppo e le relazioni che devono esistere tra Scrum Master o Coach e Product Owner o peggio ancora tra Product Owner e Project Manager o altre figure nell'azienda. Quale alternativa avevamo nel momento in cui abbiamo pensato il camp era non facciamo nulla, lasciamo così, facciamo iniziative personali, ricerche, facciamo solo i coach, sfruttiamo le certificazioni P.O. a quel tempo molto molto carenti, oppure la gente parla di queste tematiche negli altri camp, tipo la Gel Coach Camp o nelle conferenze. Abbiamo detto no, probabilmente invece c'è un interesse. Bene, allora se c'è un interesse a chi ci rivolgiamo? Va sicuramente Product Owner, agli Scrum Master, ai Coach e ai Leader Manager, quindi chi è responsabile dell'effettività, non efficacia, non solo l'efficienza di un team di prodotto, quindi chi cerca di creare valore. Bene, ma con chi partiamo? Partiamo sicuramente ingaggiando e quindi cominciando da fare un po' di mailing a Product Owner e Scrum Master. A quel punto abbiamo iniziato a domandarci, bene, allora quale può essere la vision da ottenere? La vision è quella di creare un camp, all'inizio ricordo che era uno Scrum Master più camp, in cui una serie di Agile Coach e di Practitioner possono scambiare esperienze, liberamente esperienze e conoscenze per avere una migliore esecuzione di quello che è la Product Ownership. E quindi la nostra Unique Value Proposition è stata proprio quella di creiamo un camp. Ecco qui negli anni abbiamo usato come tool molto free, semplice, abbiamo usato Trello e quindi abbiamo cominciato a creare tabelle varie usando una metodologia di tipo Kanban per poter seguire le nostre attività. In pratica non ci siamo quasi mai visti di persona tra di noi, ci vedevamo a volte in un momento, ovvio io e Stefano mentre lavoravamo, ma con gli altri no, ci si poteva vedere magari una conferenza. Però gran parte delle attività veniva portate avanti online e offline, cioè separatamente. Partiamo ecco qui tra le varie tabelle, vedete alcune sono colorate, che erano le più recenti, noi rendevamo grigie man mano quelle che non usavamo più, c'è il Product Backlog del 2013. Quindi dall'idea arriviamo all'idea bene, realizziamo a settembre 2013 un primo camp. E ecco qui il backlog di quel primo camp. Quindi c'erano una serie di cose su cui stavamo lavorando, quindi abbiamo cominciato, fantastico, guardate sotto i commenti, leggete altro a bordo, dove tenevamo una serie di altre cose. Chiaramente c'era la gestione direttamente delle cose, abbiamo cominciato a creare un sito. Abbiamo un'idea particolare, è stata quella dei position paper, cioè di chiedere alle persone che partecipavano, che avrebbero partecipato, di da subito impostare una prima idea di quello che volevano fare, di quello di cui volevano parlare. In questo modo creando un po' di hype, usando LinkedIn, Facebook e altro. Come vedete alcune cose hanno rimasto in to do, ma poi le abbiamo completate tutte, quindi c'è un last but not least, quindi abbiamo fatto i nostri compitini. E chiaramente siamo arrivati quindi ad avere una bella location, molto molto bella. Io ho rispolverato una vecchia amicizia, un mio amico batterista con cui suonavo quando ero ragazzo. E insieme a Massimo, che aveva proprio Massimo, ha una società che si occupa di meeting, di realizzare tutta l'infrastruttura per organizzare eventi. E quindi abbiamo detto questa parte se la vede Massimo, con la struttura che conosceva. E abbiamo scelto una location, ecco Massimo, una location devo dire veramente bella. Quindi arriviamo alla storia. Quindi passata la pre-storia, la storia è con la location. Quindi il primo camp si è svolto in questa struttura, si è svolta per un po' di anni in questa struttura, che è nel Golfo di Baratti, quindi in Toscana, posto bellissimo, con il mare a portata di mano. Settembre, ci ha detto bene tutti gli anni, quindi come vedete, tempo clamoroso, manca una nuvoletta, però freschino settembrino, possibilità di andare al mare a farsi un bagno, o comunque di fare delle sessioni lì, e quindi abbiamo cominciato a organizzare. Come è fatto il camp? Il camp è organizzato come una open conference. Penso che tutti sapete cosa è una open conference, ripeto qui velocemente, tra poco nelle slide si vedrà meglio. E' comunque qualcosa in cui non si decide preventivamente, come in una normale conferenza, quelli che sono i contenuti, ma viene creata in tempo reale da tutte le persone. Ecco qui, quindi vedete una parete, nella parete ci sono le varie stanze, ci sono i vari orari, e le persone presentano. Giusto al volo, quella con la maglietta rossa è la Daniela Cecchinelli di spalle, e chi sta qui accanto con proprio la persona in prima linea sulla destra, con il laccetto rosso, è donato. Eccoci, stiamo qui facendo un'attività, quello bello alto che è stato utilissimo avere Alessio con noi, perché attaccare i cartelli in alto non abbiamo dovuto prendere sedie, e quindi eccoci qui che stiamo ragionando sulle sessioni e che cosa fare. Questa stanza era meravigliosa, questa sala conferenza, perché era molto lunga, grande, e aveva queste pareti che potevano consentire di dividerla per fare i breakout, quindi le stanze per le sottoparti. Chi ha organizzato tutto questo e quindi chi devo ringraziare di aver fatto nascere effettivamente il Pio Camp sono Daniela, Alessio, Stefano, Donato e anche Giovanni Puliti. Abbiamo creato un primo sito e il formato, come vi dicevo, è quello dell'Open World Conference. Chi ha partecipato? Abbiamo detto, hanno partecipato tutta una serie di persone appassionate di questa tematica e quindi i vari product owner, quindi i temi della product ownership e che cosa abbiamo ancora da discutere della product ownership e devo dire che tuttora dopo otto anni abbiamo ancora tantissimi argomenti di cui parlare. Perché devo avere un product owner, no? Quindi chiedersi le organizzazioni, ma perché devo creare una figura, un produttore, no? Un'altra importanza è stata, un motivo per cui, diciamo, partecipare è avere chiarezza riguardo a quello che è il ruolo del produttore. Vedrete dopo in cui andiamo un po' a parlare di quelle che sono le responsabilità, gli skill, la cassetta degli attrezzi del produttore, no? E poi tutte le relazioni, quindi come si relaziona il produttore con il resto del proprio team, con il dev team, con gli scrum master, con altri team, no? Ecco qui il format del camp. Il format del camp è una classica Open Conference, quindi è una struttura, l'Open Conference è stata inventata molti anni fa fuori dal mondo agile, nel mondo dell'open source, e l'idea di fondo è questa. Nelle conferenze, sì, sono interessanti, ma una delle parti più interessanti delle conferenze è il networking che avviene fuori dalla conferenza stessa. Quindi l'idea è creiamo una conferenza che sfrutti questa idea aperta all'interno di se stessa. L'Open Conference ha le sue leggi, la famosa legge dei due piedi, che è proprio il contrario delle leggi che ci sono in tutte le normali conferenze. In una conferenza è veramente mal costume staccarsi da un talk, andarsene e andare a seguire un altro. Tutti li guardano malissimo, prima di tutti lo speaker. Invece in una Open Conference la legge dei due piedi è del tipo, non mi interessa, ma del tipo io non credo di contribuire più, voglio, magari sono curioso di sentire dall'altra parte quell'altra cosa di cui ero in dubbio se andare a seguire questo o quello, mi muovo e vado dall'altra parte. Questo crea un'attitudine molto interessante che si chiama cross-pollination, ovvero la possibilità di portare un tema che hai sentito durante un talk all'interno di un altro talk. Tu eri in quel talk, si parlava, che ne so, del ruolo del prodottone, va in un talk in cui si parla di strategia o di come fare la localizzazione di un prodotto e quindi tematiche molto più tecniche o si parla come un talk fatto da Davide Roitero sette anni fa, delle relazioni che esistono tra il tango e l'agile. Sicuramente era un talk un po' marpione perché guarda caso c'erano tutte donne a seguirlo e quindi ha tangato, ovviamente. Buon per lui che lo sa fare. E quindi magari tu porti dal tuo talk sul ruolo del prodottone e trovi delle strane interazioni tra appunto scopri che il tango e il ruolo del prodottone hanno sicuramente una forte attitudine perché appunto c'è un meccanismo molto interessante del portare la dama e del farsi portare. Oltre alla legge dei due piedi ci sono quattro principi e i quattro principi è il primo è chiunque arriva, no? È sicuramente la persona giusta e quindi guardate queste vignette carinissime di Perrone, di Claudio Perrone che è realizzata ormai parecchio tempo fa e che ce l'ha donate e noi le attaccavamo nella stanza e quindi questo primo principio dice bene, il fatto di aggregarsi di incontrarsi in un momento in una stanza stiamo parlando di un tema è occasione di conoscere persone e questo è un qualcosa di bello. Quando si parte è sicuramente il tempo giusto non è che dobbiamo preoccuparci dello scheduling dello schedule troppo specifico, no? qualsiasi cosa avviene e avviene quella giusta e questo io ricordo tanti anni fa quando la prima volta ho sentito ho visto dei grandi agilisti tipo Charlie Poole o Diana Larsen quindi stiamo parlando tipo vent'anni fa presentare l'open conference durante un XP conference e quindi una delle prime conferenze già sulle stream programming rimase incantato proprio da come loro descrivevano questa cosa e del fatto che proprio sicuramente quello che avviene è superiore alle tue aspettative devi metterti con l'attitudine giusta cioè devi dire ok, avverrà qualcosa si comincia a creare un dialogo magari scopriamo che quello di cui parlavamo avevamo preso solo un'ora non è finito bene, continueremo a parlarne abbiamo la possibilità domani di continuare con lo stesso talk e quindi aumentare quello di cui stavamo parlando e infatti è importante il timing quando è fine è fine perché dobbiamo rispettare il fatto che c'è la rotazione tra le varie stanze più concretamente giusto per andare un po' nel concreto che cosa facevamo? facevamo vedete quella flip chart ogni stanza aveva la flip chart quasi tutte le stanze avevano un proiettore per le diapo per le slide ma ma la cosa importante è che chi tiene il talk ha il compito sulla flip chart di scrivere gli argomenti principali trattati di disegnare perché poi quella flip chart verrà messa a fattore comune fotografata e utilizzata come knowledge sharing per far sì che si abbia tutti quanti abbiano conoscenze perché uno potrebbe avere il problema di dire ci perdiamo un po' quello che abbiamo detto non c'eravamo che ne so A, B, C vedete di stanze più c'era il fuori al bar al tavolino intorno alla piscina quindi tante location ne scelgo una sola di queste e mi perdo altri 4-5 location no non è un problema perché poi gli altri mi racconteranno e quindi ci sarà un meccanismo di sharing quella prima edizione abbiamo fatto anche dei giochi e una delle sessioni è stata questa idea divertentissima che avevamo partorito in realtà io e Giovanni Puliti mentre stavamo in KPMG quindi nel 2012 di nuovo cena di nuovo bir ci siamo inventati questo gioco folle perché ci avevamo chiesto per una conferenza all'estero e ho detto che ci inventiamo spara una cavolata a uno spara una cavolata a l'altra è nata questa idea di fare la Jai Gramlò e Gramlò lo conoscerete perché Dario Fo lo utilizzava tantissimo nei suoi spettacoli è una lingua inventata e questo gioco è stato fortissimo raccontava un po' della difficoltà che è il prodattoner di parlare con tutti gli altri e quindi ecco qua altro gioco molto bello un altro questo è Giulio Roggero e qui questo qui è un po' un gioco invece legato a come si può migliorare continuamente questo è un gioco molto famoso nel Lean usato diciamo in Kanban e in Lean che usa dei semplici eretti di carta e il meccanismo quindi è una specie di gioco a squadre di sfida e il meccanismo è quello di migliorare continuamente le proprie performance quindi ogni compagnia aerea deve cercare di raggiungere magari con i propri aerei di atterrare perché la cosa tosta non è solo andare lontano ma magari è far finta che ci sia una porta aerea e non devi superare né prima né dopo quindi devi andare su un tavolo se caschi dal tavolo sei finito in acqua e quindi c'erano tutte le varie cose un po' di cause analysis la cosa interessante guardate che cosa c'è scritto sopra questo post-it questo foglio di Flipchart in pratica avete giocato ma avete cominciato a esplorare una tecnica favolosa una delle più importanti dell'in che si chiama A3 A3 thinking quindi come vedete tante belle cose ecco qua una sessione diciamo questa è stata una delle prime storiche divertentissime quindi sessione al mare sulla spiaggia e quindi qui cominciavamo proprio a usare il fatto che divertirsi è fare le cose serie piccolo nanetto aneddoto c'era un ragazzo di colore intorno che voleva venderci delle cose e quindi continuava a girare intorno cercando di venderci le cose e a un certo punto gli ho fatto un cenno e ho detto ma vieni a sederti con noi e si è messo con noi poi abbiamo tirato fuori una birra un po' di roba da bere quindi siamo messi è diventata una sessione conviviale molto divertente la prossima slide è storica perché abbiamo deciso di lasciare un segno per i posteri per l'umanità ecco questa qui è la traccia a futura memoria del Pio Camp indelebile nulla la potrà distruggere quindi l'hashtag sulla sabbia è noto se volete fare un'impresa di successo fate hashtag sulla sabbia ok secondo Pio Camp e così vi faccio vedere quanto è bello il golfo di Baratti che c'è anche un pochino di rovine ecco qua quindi come vedete quello lì è il porticciolo verde su in alto c'è una ci sono delle rovine storiche molto interessanti e dove eravamo noi come location fatta questa foto immaginate di spalle manco un chilometro un chilometrello in mezzo a questa bellissima macchia mediterranea e un po' di pini insomma si stava veramente bene e ripeto abbiamo fatto varie sessioni marine nel secondo camp quindi siamo al 12-14 settembre 2014 stesso formato abbiamo finalmente un nuovo sito un po' più strutturato rimane lo stesso gruppo sparisce Giovanni però la notizia importante è che avevamo deciso dal primo camp cosa che non era scontata ma che facciamo facciamo il secondo l'idea è stata assolutamente sì quindi rieccoci nella location adesso un po' di slide vado velocemente attraverso i vari camp vedete com'è la sessione iniziale quindi normalmente il camp funziona dura tre giorni all'inizio abbiamo poi spostato un po' gli orari comunque fate conto le normali erano ci si vedeva intorno al venerdì sera noi arrivavamo per venerdì a pranzo allestivamo la stanza e tutto il resto pronta la vedete un pochino fatti i melli i cartelli c'hanno il logo e quant'altro e tutte queste sedie le persone qui ormai erano diventate quasi una quarantina nel primo 35 e qui 45 e la cosa è stata appunto che all'inizio presentiamo spieghiamo vedete ai lati sulla parete si vedono i disegni di Claudio Perrone sull'open conference quindi io ho sempre fatto da facilitatore degli eventi e quindi spiegavo il meccanismo per creare quando le persone devono proporre le loro sessioni le sessioni non sono per forza dei talk sono anche delle richieste di approfondimento del tipo sono un nuovo prodattore non so nulla dove devo andare a guardare chi mi consigliate oppure ci siamo inventati presto un nome particolare presi da Harry Potter i babbani cioè non sono un PO non sono un scammasse non sono un coach non ho a che fare con l'agile sono un leader magari in una società sono un manager però sono incuriosito di quello che fate vorrei essere qui a capire vedere come funziona il tutto ecco qui questo è Davide che sta spiegando una sessione abbiamo altre persone di Cerved e ci abbiamo Anna di Neo Mobile quindi sono qui un paio di PO Camp dopo ecco qui un gruppo di valorosi con le loro felpe abbiamo avuto gli sponsor per un po' di tempo e qui una volta mi sono inventato una cosa un pochino sadica e quindi ho portato un gioco austriaco e li ho costretti a giocare a questo gioco in questo gioco funzionano i giochi normalmente venivano fatti il venerdì sera o il sabato sera più spesso il venerdì sera e il sabato sera magari ci siamo inventati dei giochi molto carini più legati alla prodattona questo invece era più un icebreaker giochi per esempio un grande è stato un gioco fantastico è stato il Lego creare con il Lego dei prodotti il PO Challenge mentre questo il gioco micidiale è che queste due squadre vedete due squadre con questi fili devono vediamo se parte hanno vinto tosto come vedete è un gioco molto interessante di coordinamento di leadership nessuno è leader nessuno può al volo si sono create le squadre quindi non è che dice ai ragazzi comando io dico io tutto quindi e le due squadre si scambiano devo passare una sotto l'altra non possono urtarsi e darsi fastidio e come vedete devono creare quella torre quindi è una bella simulazione di quello che è la creazione di prodotti ok questo era Poggio all'agnello poi ci spostiamo nelle marche nei camp successivi cambia un pochino il gruppo entra anche Gabriele Ottaviani Raffaello Torraco entra Alessandro Giardina nel gruppo e diciamo per esempio dal 2016 ci siamo spostati appunto nelle marche vi faccio vedere una retro al volo del 2014 quindi da bravi agilisti alla fine di ogni camp facevamo la retro la retro veniva fatta in genere in questo modo molto carino per terra dando i soliti post-it colorati quelli grandi facevamo creare una sorta di fiore alle persone e quindi attaccavano tutti cioè pongiavano questi post-it con le scritte per terra scritte in modo tale che si leggessero intorno e poi tutti in cerchio giravamo e leggevamo volta per volta i vari post-it quindi creando di nuovo un misto tra gioco e il resto ecco qui abbiamo creato una nuova vision del prodotto e quindi in qualche modo la product owner camp comincia ad avere qualche connotato in più comincia a nascere l'esigenza di spingere molto di più sul creare una community su creare dei gruppi che fossero diciamo relativi proprio a dei focus group e avendo ancora comunque diciamo le esperienze tipiche tra di noi varie persone esperte di prodotto abbiamo creato la vision in questo modo usando il concetto delle personas ci siamo inventati tre figure Gastone che si occupa dei prodotti servizi software con funzione di responsabilità del prodotto prodotto vuol dire almeno 50% del Lean Canvas come DPO e o manager sono ex Scrum Master effluente di Agile Lean ha partecipato almeno un Agile Day e altre due tre conferenze sul tema quindi è un nostro esperto questo Gastone che viene e dice perché viene dice il PO Camp va oltre il solito evento Agile è veramente un evento per PO al quale partecipano sia esperti di Agile Link che manager mi è servito enormemente soprattutto per capire come connettere business e software ho particolarmente apprezzato la specificità del Product Ownership e i workshop che sono stati illuminati infatti la caratteristica nostra Unique Value Proposition è il fatto che il Product Owner Camp è il posto in cui si parla di Product Ownership non solo il Product Owner molto di più che in una qualsiasi conferenza cioè in tutti i camp penso che ci siamo triturati parecchie conferenze abbiamo fatto veramente tanta tanta discussione siamo andati molto a fondo e siamo abbastanza ci riteniamo tra gli esperti insomma anche mondiali della tematica la comunità ormai ha un 120 persone molto molto collegate sono quasi tutti i Product Owner vediamo però chi sono gli altri le altre persone c'è Chiara Chiara è coinvolta in prodotti servizi software ha un'esperienza minima di agile vuole diventare Scrum Master o produttore non è ancora sicura non sa qual è dei loro ruoli o comunque portare avanti il verbo in azienda adora imparare nuove cose spinta da curiosità e dal desiderio di migliorare la propria formazione per un maggiore impatto su azienda e carriera e confesso il Pio Camp è stata un'esperienza indimenticabile come vedete l'abbiamo fatta come dopo del Camp prendendo il proprio da vere persone quindi creando la personas da tante persone che abbiamo intervistate è stata un'esperienza indimenticabile con apprendimento e condivisione dei problemi sono rimasta colpita dalla statura di esperienza dei partecipanti e non vedo loro a partecipare al prossimo ora so cos'è un Pio i wash che hanno emozionato e sono stati unici Sandro invece è il possibile babbano è un manager di una piccola azienda software che fornisce software e servizi per piccole e medie imprese in Italia CRM gestionali ad esempio è un esempio solo nato come software engineer si occupa da anni del business facendo da tramite tra clienti e sviluppo Sandro fa una gran fatica ad offrire prodotti e servizi che soddisfano le esigenze ai clienti ma che non impattino in modo dirompente sulla pianificazione interna sa che il creare offerte diverse perenne clienti diversi crea un debito insostenibile come tempi e risorse e rivela da tempo cercavo una comunità di esperti che mi aiutasse a chiarire i miei dilemmi come responsabile della pianificazione a nostra offerta so che agile ci aiuta molto ma il mio team è diventato bravo a far fronte a requisiti cangevoli e a deliberare in tempi ragionari in altre parole sull'emergenza ma io non voglio costruire un business sull'emergenza voglio un set di servizi e prodotti che risolvano il vero bisogno del cliente ma chi è il mio cliente veramente come determina il suo bisogno come lo modello in termini requisiti e prodotti come devo riorganizzare il mio team finalmente ho trovato queste risposte al Pio Camp oltre ogni aspettativa e questa è stata la realtà infatti questo ha fatto sì che esso siamo qui a parlarne dopo otto anni e cresce continuamente l'interesse delle persone si sono creati legami di amicizia molto forti sono nate esperienze sono nate progetti sono nate mini start-up la community è nata già dal 2014 ufficialmente diciamo scusate manca la data dal 2015 è fatta essenzialmente da n persone e usa come strumento primario un gruppo whatsapp più chiaramente altri canali e una serie di strumenti più come ne parlavamo prima Slack mediante tutta una serie di focus group specifici ok abbiamo nel 2015 quando abbiamo proprio fatto nascere ufficialmente la community deciso di creare dei champion dei vari focus group cioè abbiamo detto ok quali sono i temi più importanti di quest'anno la strategia le relazioni produttore creare il valore e queste altre cose ebbene creiamo dei champion quindi alcuni di noi si prendono uno di questi gruppi e portiamo avanti il tema in modo tale che durante l'anno lo elaboriamo e poi lo riportiamo al prossimo tempo e così è stato anzi addirittura molte volte da lì sono nati i talk che sono stati portati poi in conferenze diverse o dentro le community diciamo le community of practice interne alle aziende ok parliamo un attimo del tempo attuale nel tempo attuale siamo arrivati 2020 causa covid a dover gestire un nuovo tipo di camp l'abbiamo chiamato PO Bcamp e si è svolto nell'8-9 settembre di quest'anno open conference virtuale organizzatori come vedete più o meno ritorna a quel gruppo si è aggiunto a noi Emanuele Moscato si aggiungono persone dell'Italia già il Dave la Francesca del Re e Danilo Trapanese i tool che abbiamo usato specifici oltre agli altri sono Miro e Google Meet e il tag sempre POCENT ecco quindi le board che abbiamo creato in Miro abbiamo simulato lo stesso meccanismo dell'altra quindi come vedete ecco lì la parte di spiegazione Alessandro Giardini ha fatto l'introduzione io ho fatto da chair dell'open conference la durata è stata ridotta a due sessioni di quattro ore più un diciamo un aperitivo finale di un paio d'orette in cui ognuno si è portato da bere abbiamo parlato in modo un po' libero e è stata una prima esperienza come vedete le stanze le abbiamo questo qui è un diciamo ecco qui per esempio abbiamo scelto soltanto di fare tre stanze la camera ovale la panic room la camera dei segreti e quindi in pratica avendo tre slot per ogni giornata nove nove possibili talk nove più nove diciotto talk insomma alla fine viene fuori una cosa interessante i partecipanti sono stati ecco vedete qui un 38 persone 38 persone insomma per otto ore direi che ci si può stare insomma vari temi tipo il tema riguardo al portfolio quindi a come gestire le iniziative ad alto livello come pensare e dare valore a quello che viene fatto qui ci sono un po' di topic quindi abbiamo parlato del ruolo del product owner le interazioni product owner quindi quali sono i legami che ha il product owner all'interno dell'organizzazione fuori delle organizzazioni come funziona il product owner a livello proprio di organigramma quali sono i suoi obiettivi che relazioni ha con i suoi top manager il product owner deve essere o non deve essere un domain expert in questo caso la risposta è stata decisamente sì e allora come collabora con gli smelly special matter expert come si allinea la strategia di un prodotto abbiamo discusso tanto sul fatto che il product owner nella versione moderna non è e non deve essere assolutamente colui che scrive le feature è colui che invece dà la strategia del prodotto che decide quelle che sono le priorità che devono essere realizzate e quindi più come un leader come un coach addirittura del proprio team usando il concetto dell'host leadership abbiamo discusso tanto della creazione del valore di come funziona la continuous delivery quindi come vedete tanti tanti temi cercando di vederli da tante angolazioni ecco qui alcune frasi che vi riporto frasi diciamo alcune considerazioni la Susanna Ferrario è un'amica che ho conosciuto pensate facendo il coach in Matrix quindi società che ora non esiste più però società storica italiana nel 2010 quindi insomma un bel po' di tempo fa è stata una delle prime product owner che ho formato in Italia prima li avevo formati all'estero e lei dice che il Pio Camp ha valore più di tutto per la creazione del network lei è sempre un entusiasta è una persona è una senior product owner potremmo dire che in certi modelli è una chip product owner Stefano Cocci anche lui è stato product owner in KPMG per tanto tempo un vantaggio tangibile nel networking e nella partecipazione all'evento è l'avere una bussola in base alla quale orientarsi su libri strumenti e metodi di approfondimento per tanti anni abbiamo fatto sempre il fatto anche di avere un tavolo con lo scambio di libri in modo tale di ognuno potesse poi leggere e lasciare dei commenti sui libri Emanuele Moscato un ragazzo che è arrivato nuovo e ora fa parte del gruppo di organizzazione dice io ho trovato nel Pio Camp due cose fondamentali una bella community che va oltre il camp con il gruppo Whatsapp mi piacerebbe più Slack ma mi accontento è un evento informale che viene co-creato da tutti e molto arricchente da tutti i punti di vista è un bel momento di aggregazione forse nel tempo si è perso il focus sulla produttore ma questo lo trovo un plus ho poca esperienza e sono recente nell'agile quindi mi sono perso i Pio Camp marini in Toscana lui quindi dice e infatti quindi nel suo messaggio viene fuori che nel Pio Camp ci stiamo allargando non siamo più proprio focalizzati solo sulla produttore ma man mano vengono fuori tante cose Paolo San Micheli è stato con noi tante volte e abbiamo parlato degli albori dell'agile for hardware dello scan for hardware abbiamo alcune persone che vengono tutti gli anni e proprio per loro un evento sono dei top manager e con loro abbiamo discusso tante tematiche interessanti ecco qui uno degli organizzatori una delle sfide che abbiamo avuto nel Pio Camp virtuale è nel corso del Pio Camp virtuale abbiamo potuto toccare con mano quanto sia la differenza tra l'evento in presenza rispetto all'evento online per quanto i nuovi strumenti tecnologici vanno nella direzione di ridurre la distanza fra i due approcci un evento come il Pio Camp non può essere che in presenza ho notato anche un po' di stanchezza con il fatto che gli eventi sono online sono stati numerosi e quindi rispetto a quanto organizzato prima in presenza la precipitazione quindi il drop rate è molto elevato pensate che per raggiungere 38 abbiamo dovuto portare il numero di partecipanti a 80 quindi abbiamo avuto come supponevamo quasi il 60% di drop rate ok vi faccio vedere velocemente se ho un pochino di tempo quanto tempo ho? 10 minuti ok vado veloce vi faccio vedere un po' qualcosa riguardo per esempio l'elaborazione del tema del Pio del ruolo del Pio ok come vedete quindi siamo partiti da alcune tematiche notte non è che nasciamo Daniel un sacco di libri la Scan Guide Pickler ecco qua materiale materiale ma ci siamo chiesti noi stessi ok buttiamo giù insieme quelle che sono le responsabilità quindi siamo messi lì era il 2014 no il 2013 siamo partiti proprio al primo e abbiamo cominciato ad attaccare Post-It queste sono per noi le varie responsabilità sicuramente un Pio deve avere la vision deve essere il ripositario del ROI lo dicono tutte le guide non so del net present value deve essere responsabile del market research della roadmap del prodotto è ovvio che sì del release planning degli obiettivi di prodotto del product backlog ovvio quello by definition e del portfolio contribution quando lui fa parte di un'azienda wow quanta roba ok ma che skill deve avere un prodottone per fare tutto ciò ecco qui di nuovo Pickler che presenta qui ero in una conferenza in Romania e quindi i thinking tools che lui ha sono sicuramente quindi gli skill i thinking tools che lui ha le personas le user story fare grooming oppure product backlog refinement gli accepting criteria la definition of done la definition of ready il minimal viable product minimal markable feature level elevator pitch la vision business model canvas il link canvas lo story mapping l'impact mapping il product canvas si potrebbe fare repare questa cosa si potrebbe tentare di farla in trap product vision board decano diagram magari magari io scrivo un pezzo trap sul ruolo del prodottore ok e deve avere una serie soft skill deve essere un sognatore perché per creare prodotti deve essere in grado di pensare di sognare un visionario no deve avere la negoziazione se no non va da nessuna parte dato che la prima cosa che deve imparare a dire no alle richieste di tutti gli stakeholder se non negozia i suoi no gli staccano la testa deve essere autorevole non pensatela come autoritario ma deve essere autorevole e deve essere un'autorità su quello di cui parla deve avere leadership deve avere capacità di analisi e di sintesi deve essere capace di ascoltare in modo attivo deve essere capace a volte di stare in silenzio e sentire gli stakeholder il brusio e quella pausa di silenzio che è conclamante che fa capire chiaramente cosa sta pensando quel manager o quello stakeholder lui deve percepire queste cose deve avere capacità di delega deve delegare molto al team deve delegare moltissimo allo scrum master deve essere disciplinato in quello che fa perché deve avere un controllo totale del tempo e delle proprie attività e deve saper dare e avere se stesso continua a motivare in pratica eccolo qua uno product owner è superman ok non c'è dubbio quindi noi abbiamo tentato una cosa folle abbiamo tentato di buttare giù un product owner manifesto che poi scherzosamente abbiamo chiamato poster p-o-s-t-r poster quindi che cosa abbiamo voluto mettere i valori e i principi che tipo di forma una forma che poteva essere dicotomica tipo la già del manifesto oppure una forma più figa tipo il software craftsmanship not only but also quindi del tipo non solo questo ma quest'altro il produttore non fa soltanto il background ma definisce la strategia il produttore non scrive solo i features ma definisce va avanti crea un impatto nel mondo cambia il futuro rende il mondo un posto migliore oppure una forma del tipo we do this by making come la dichiarazione interdipendenza un altro dei manifesti agile famosi oppure altri modi queste sono non ve lo leggo tutto ma sono tutte un po' le idee che abbiamo buttato giù e in soldoni abbiamo buttato giù questa è una proposta more product oriented than project oriented maximize your return on investment rather than implement all the functionality of the product e poi establish and follow a vision over manager team è un draft and support go to market strategy of product and launch initiative o innovation supporting marketing communication perché un manifesto perché è un modo per avere un understanding comune è un qualcosa che ci identifica è quello che fa sì che questa comunità si ritrova intorno a questo manifesto questo è un po' quello continuamente lo ritocchiamo insieme agli altri però è un qualcosa che per noi ha un senso quindi ci chiarifica e fa sì che noi siamo in grado di dire noi siamo i prodattori italiani siamo questa realtà ci riconosciamo all'interno del più camp e questo è il manifesto che ci contraddistingue ovviamente abbiamo bisogno del vostro aiuto quindi chiunque può contribuire e al volo per il futuro sicuramente l'idea di fare continuamente il più camp appena possibile di nuovo in fisico di fare le esperienze più camp ci piacciono facciamole più volte aumentiamo la community e aumentiamo l'interazione della nostra community con altre community creando un ongoing continuous produttore ok ci siamo in pratica vogliamo fare con il Lego questa piccola figura è una cosa molto facile ovviamente ok ho finito grazie mille grazie mille allora adesso direi che lasciamo un po' di tempo per le domande e nel frattempo riprendi tu il controllo sì per raccogliere un feedback immediato come potete vedere noi utilizziamo questo strumento che si chiama menti.com vi basta o inquadrare il QR code o andare sul sito menti.com e inserire questo codice che vedete per lasciare un feedback al talk di Fabio alla fine delle domande che gli farete poi vedremo tutti insieme quali feedback che sono stati lasciati c'è qualcuno che vuole porre la sua domanda o la scrive o prende la parola col microfono molto semplicemente guardiamo la chat la chat non vedo scritte no ancora no adesso vediamo se se non potete ne faccio una io sicuramente non so se qualcuno sta cercando di fare una domanda ma sentiamo male c'è una domanda prossimo camp allora il campo fisico lo faremo appunto sempre a settembre perché tra tutte le varie attività coordinate mi sono dimenticato di dire che comunque ormai da qualche anno il Pio Camp è diciamo sponsorizzato e supportato dalla comunità italiana Agile Day e da IAM quindi Agile Movement e quindi tra le varie conferenze che ci sono cerchiamo di non darci fastidio quindi più o meno ognuno si è posizionato in un periodo dell'anno e a noi diciamo quello fisico viene bene lo facciamo uno l'anno e lo facciamo a settembre però adesso sicuramente potremo fare in più quello diciamo invece virtuale calcolate che poi si è generato uno spin off dal Pio Camp sulle tematiche più di people e hiring e quindi tranne anche un mese faccio un po' di pubblicità ci sarà già il people camp che è diciamo tematiche più legate proprio a people HR e questo tipo quindi leadership e quant'altro quindi fra un mese il prossimo appuntamento ecco un'altra domanda sempre in chat sì 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 beh perché devono passare sul mio corpo per fare fuori il slack no no io lo tengo attivo e cerco di riportarci dentro da bravino i contenuti più importanti in modo tale che perché è un po' come non ho proprio l'apparenza di una vestale però cerco di fare la vestale diciamo dell'iniziativa quindi quando una cosa secondo me ha un senso cerco veramente di portarla avanti un po' in tutti i modi quindi sì sì sono attivi poi sono dentro diciamo che sono supportati anche questi da IAM e poi vi mando tramite così che la community può diffonderlo vi mando il link su dove sono volentieri se non c'è nessun'altra domanda le faccio una io che è quella che riguarda appunto se avrete pensato di rendere internazionale o di fare un'edizione internazionale di questo campo è diciamo con l'abbiamo pensato tante volte quello fisico però c'erano grosse difficoltà appunto proprio di costi e altro perché devi invitare una persona ho provato una volta Picler passava dalle nostre parti abbiamo detto però sono tre giorni insomma quindi che lui voglia venire pagargli diventa una cifra micidiale immagina pagare tre giorni full time una figura del genere mentre il virtuale assolutamente sì il virtuale a questo punto lo faremo sicuramente aperto internazionale grazie per la risposta sì c'è qualcuno non so se mi vedete anche pronto sì sì di ci sentiamo sicuramente ciao ma non mi vedete perché io sono in macchina scusate adesso sì ciao Luca ciao Luca ciao caro ciao Fabio buona serata buona serata a te in realtà non ti faccio una domanda Fabio faccio una considerazione vai ho ascoltato in realtà ho fatto Milano Fidenza mentre tu parlavi e ho ascoltato tutti i riscontri dei partecipanti ai vari people camp allora io ho partecipato da babbano qual'era a quello del 2018 e da babbano quale sono a quello del 2020 e vorrei dare anch'io se posso un riscontro tipo quelli che hai letto tu volevo dire semplicemente che che spacca e alla Pantozzi veramente spacca no no veramente io da babbano suggerirei a tutti di farsi un bel giro a questo camp perché è veramente spacca e in due giorni vi portate via Food for Brain per tutto l'anno che vi separa dal camp successivo e poi come dire spingo anch'io su quello che ha detto poc'anzi Fabio e dico che ci vediamo ci vediamo alla Jail People Camp perché io e il mio HR ci saremo al completo perché ci crediamo tanto e poi è una location da paura ce ne andremo lì al Mioni Hotel vicino Padua si sta molto molto bene basta tutto qua quindi grazie 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 mille ho visto che c'è Alessandro fra gli organizzatori tra i partecipanti che è un organizzatore ringrazio anche lui e tutti quelli che mettono l'energia dentro gli ampi assolutamente assolutamente molto bene ciao ti zittisco bene ciao Tiago ci sto creando un prodotto un'ottima visione di quale sia il nostro problema hai qualche consiglio sulla migliore roadmap devo iniziare con un MVP cosa devo fare ho lavorato su ottimi allora ti rispondo adesso velocemente e poi ti propongo una piccola call quando vuoi ne parliamo in modo un po' più esaustivo allora l'idea della roadmap io te la racconto un po' come la racconta bene Picler la roadmap è una roadmap cioè è del tipo tanti di noi io da ragazzo proprio facevo le follie i viaggi più folli del tipo va ciao mamma ciao papà vado dove vai vado non si sa nel nord Europa quindi in quel caso la roadmap era veramente apertissima la roadmap potrebbe essere un pochino più mirata cioè del tipo voglio arrivare a capo nord quindi ok c'è un punto c'è una meta e più o meno vorrei toccare questi vari punti però flessibile questo è il concetto fondamentale di roadmap agile molto diversa da un planning waterfall è molto figa perché c'è l'idea e questo è più o meno anche quello che muove Elon Musk e tanti altri cioè io ho un'idea di dove arrivare non so quali sono i percorsi potrebbe essere che trovo un sacco di ostacoli però alcune milestone me le piazzo alcuni punti che potrebbero essere alternativi e in qualche modo arrivo al dunque e questo insomma è un modo per farlo chiaramente unire a questa i concetti di Lean Startup e quindi il concetto ok ma come posso percorrere questa roadmap e quindi per esempio posso mettere tu immagini un roadmap come arrivare in cima a una montagna alta l'Everest o un'altra montagna del genere no? sulle Ande ok un primo campo base cioè un primo punto in cui cominciamo a fare a capire se stiamo andando bene ecco il primo potrebbe essere il minimo viable product che deve essere o meno un vero minimo viable product non come ho sentito fare e ho combattuto in tante grandi organizzazioni in cui ero un coach in pratica era il solito prodotto solo che era la versione 1 del prodotto no quello è un massacro cioè hai già speso un n.mila robe per fare un affare questo è un primo primo piccolo test di business che ti faccia capire come arrivare se uno legge bene l'idea dell'MVP all'inizio il primo MVP è magari totalmente fake usi una tecnica tipo consiergio cioè fai finta dice ok vuoi usare il prodotto ecco guarda questo è un prodotto di intelligenza artificiale che simula la conversazione come è fatto? è che c'è uno che risponde all'altra parte ok però intanto vedi qual è la relazione capito? cioè può funzionare per esempio oggi mi sono inventato vi regalo questa idea geniale il scratch my back online che sarà un'applicazione per far grattare la schiena perché stavamo parlando del fatto che le relazioni umane sono nate diciamo centomila anni fa no un milione di anni fa quando eravamo insomma un quadrupe di altri comunque essenzialmente l'umanità si è aggregata per varie cose guerra sesso e charle charla diciamo parlare e spidocchiarsi lo spidocchiarsi se guardate i nostri consimili è fondamentale è stato fondamentale per noi e allora dicevo ah non si può fare un live però si potrebbe fare il gratta schiena quindi un gratta schiena sociale per esempio un wearable una bella maglietta e io ti gratto la schiena a distanza e questo qui il mio viable product è che tu intanto quando ricevi il messaggio ti gratti tu e vedi se funziona ok quindi sì grazie gratta schiena per tutti su blockchain esattamente lo regaleremo come gadget benissimo allora se non c'è nessun'altra domanda direi che possiamo andare verso la conclusione di questo appuntamento e intanto ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità ricordo che il video di questo meetup verrà caricato nei prossimi giorni sul nostro canale su youtube e quindi potrà essere condiviso o rivisto se insomma volete riascoltare dei pezzi rimanete rimanete un attimo ancora con me perché ho degli annunci da farvi intanto qui potete vedere i feedback che sono arrivati al talk di Fabio un attimo un attimo